In viaggio verso l'acquario di Genoa, nonna Marina gioca con i suoi patati. Vittoria ride e Leone vede Arioman. Ho visto l'Iron Man. Ma dov'è che l'hai visto? Lassù, madonna. Nonna Marina, ieri è stata una giornata tutta dedicata ai suoi nipotini. Leone e Lavitto. L'acquario di Genoa è bellissimo per i bambini.